Il fatto di essere usciti al mattino che la Toscana sarebbe stata arancione e la provincia di Arezzo, seppur rossa, aveva uno spiraglio di contrattazione per la Valdichiana, per l'apertura almeno delle scuole, questo l'ha fatto sperare un po' tutti e nella giornata di ieri erano cominciate la riorganizzazione della vita di molte famiglie. Poi alle 6 arriva la doccia fredda che il ministro Speranza ci comunica che la Toscana sarà rossa. Lei capisce che la situazione è veramente bollente. C'è tanta amarezza nelle parole del sindaco di Civitella in Valdichiana, Ginetta Menchetti, amministratrice di centro-sinistra. L'informazione in questo momento, poi quella istituzionale, è davvero fondamentale, quell'informazione su cui i cittadini fanno veramente conto. Delusione che deriva dagli spiragli lasciati intravedere dallo stesso presidente della Toscana Gianni sul mantenimento dell'arancione a livello regionale e sul possibile ritorno della Valdichiana in una fascia con restrizioni meno pesanti al termine delle due settimane in zona rossa. Pur comprendendo le difficoltà di un momento così complesso, di un presidente che si deve muovere su mille fronti, è comprensibile che possano essere fatti degli errori, però l'importante sarebbe ammetterli e cercare poi di virare. Durissime le critiche del primo cittadino, che adesso ha preso carte e penne scritto al governatore, anche sulla gestione dell'emergenza sanitaria da parte della regione. Nello specifico, il sindaco punta il dito contro la gestione della campagna vaccinale. Credico la priorità di alcune categorie che apparentemente, e non solo apparentemente, hanno un minor rischio di altre. Si fanno delle scelte, appunto si può anche sbagliare, però l'importante è riconoscere i propri errori e cercare di poi migliorare la propria attività nell'interesse di una giustizia sociale, perché io credo che il centro-sinistra si debba proprio distinguere per una giustizia sociale.